Signore e signori buonasera, benvenuti a Forlì, al cimitero di guerra indiano della città romagnola. Siamo di fronte al monumento inaugurato il 13 agosto 2011 e dedicato ai combattenti Sikh dell'esercito indiano morti sul territorio italiano. La placca commemorativa scritta in inglese ci dice che noi oggi possiamo vivere con onore, dignità e indipendenza. In guerra loro hanno combattuto e sono morti per noi indossando i turbanti. Winston Churchill dedicato ai soldati Sikh dell'esercito indiano morti durante la campagna d'Italia. Grazie per la visione! Grazie a tutti!